Alla Casa del Jets fino al 6 agosto continua Summer Time con le migliori proposte del Jets italiano e internazionale. Scopri il programma su www.casadeljets.com Dalla redazione di Internazionale, io sono Giulia Zoli. Io sono Claudio Rossi Marcelli e questo è Il Mondo, il podcast quotidiano di Internazionale. Oggi vi parleremo degli attacchi israeliani sulla striscia di Gaza e del lancio di un razzo spaziale europeo e poi della nuova copertina di Internazionale e di un podcast. È giovedì 11 luglio 2024. Il 9 luglio l'esercito israeliano ha bombardato una scuola trasformata in un rifugio pesfollati vicino a Khan Yunis, nel sud della striscia di Gaza. Almeno 29 palestinesi sono stati uccisi, compresi donne e bambini e decine sono stati feriti. La donna che avete ascoltato è la madre di una delle vittime, che accusa Israele di prendere di mira i bambini e afferma che l'uccisione di esseri umani e la distruzione non fermeranno la resistenza dei palestinesi. Negli ultimi giorni in tutta la striscia si sono moltiplicati gli attacchi aerei dell'esercito israeliano. Ne parliamo con Francesca Agnetti, editor di Medio Oriente ed Internazionale. Il Ministero della Sanità di Gaza ha chiarito che le bombe israeliane hanno colpito il cancello, quindi proprio l'ingresso della scuola lauda che si trova nella cittadina di Abbasan al-Kabira, appena est di Khan Yunis, la città più grande del sud della striscia di Gaza. Questa scuola è diventata, come molte altre scuole della striscia di Gaza, quelle che non sono state completamente distrutte, è diventata un rifugio per le persone spollate. In questo caso in particolare si tratta delle persone fuggite dai villaggi che si trovano nella zona est di Khan Yunis, a cui una settimana fa l'esercito israeliano aveva ordinato di lasciare le loro case e infatti in decina di migliaia si erano spostati proprio per evitare di essere colpiti dalle bombe israeliane. Testimoni oculari hanno raccontato ai mezzi di informazione che sono riusciti a raggiungerli che non c'era stato nessun preavviso che l'edificio sarebbe stato colpito in un momento serale in cui l'area era affollata di persone che svolgevano le loro normali attività. L'esercito israeliano ha comunicato di aver usato una munizione precisa per colpire un miliziano dell'ala militare di Hamas che aveva partecipato agli attacchi del 7 ottobre in Israele e ha detto di stare verificando i resoconti di vittime tra i civili. Ma sappiamo che queste verifiche non hanno mai portato a niente in questi mesi. La cosa inquietante è che si tratta della quarta scuola colpita dai bombardamenti israeliani in quattro giorni, cioè da sabato, il 6 luglio, sono state colpite altre tre scuole, tutte occupate da spollati, per un totale di 20 morti. In tutti questi casi Israele si è giustificato dicendo che Hamas usava le strutture come basi operative. Sabato è stata colpita una scuola gestita dall'Urwa, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi, a Nuseirat, nel centro della striscia di Gaza ed erano morte 16 persone. Domenica una bomba ha colpito una scuola gestita da una chiesa a Gaza uccidendo un alto funzionario governativo di Hamas e altre tre persone e la notte successiva ci sono stati invece diversi feriti nel bombardamento di un'altra scuola gestita dall'ONU a Nuseirat. Secondo diversi mezzi di informazione internazionali i bombardamenti degli ultimi giorni sul territorio palestinese sono stati tra i più feroci da quando Israele ha lanciato l'offensiva nella striscia in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre. Cosa sta succedendo sul terreno? Israele ha lanciato una nuova grande offensiva nella città di Gaza il 27 giugno e da allora ha emesso diversi ordini di evacuazione per zone specifiche. L'ultimo è stato ieri quando ha ordinato a tutti gli abitanti della città di andarsene usando dei corridoi di sicurezza, così chiamati. In realtà a gennaio Israele aveva annunciato di avere smantellato la struttura militare di Hamas nel nord e aveva spostato le sue operazioni verso il centro e poi ancora verso sud, fino a Rafah, la città al confine con l'Egitto, dove si erano rifugiate centinaia di migliaia di persone che erano fuggite proprio dal nord. Quindi quando a maggio è cominciata l'offensiva su Rafah, le persone si sono dovute spostare di nuovo verso il centro, verso il nord e ora sono costrette a fuggire ancora per la terza, la quinta, la decima volta. E per andare dove poi? La striscia di Gaza è lunga 40 chilometri, larga 10. Secondo un rapporto dell'operazione satellitare delle Nazioni Unite, tra il 7 ottobre e il 31 maggio sono state distrutte o danneggiate il 55% di tutte le strutture del territorio. Lo stesso rapporto parla di più di 135.000 abitazioni distrutte, soprattutto a Gaza, Kanyunis, nel nord del territorio. Ogni angolo della striscia di Gaza è stato bombardato, quindi dove queste persone dovrebbero andare non è chiaro. Dall'inizio dell'offensiva israeliana, le organizzazioni per la difesa dei diritti umani dicono che a Gaza non esiste un luogo sicuro. Sono passati nove mesi, la situazione ormai è oltre qualunque definizione si possa dare di catastrofe. In questa situazione catastrofica, in questo susseguirsi di evacuazioni e bombardamenti con migliaia di persone che si spostano da una parte all'altra in cerca di rifugio, in cui tutto, case, scuole, ospedali, infrastrutture, è stato distrutto, quale vita è possibile ancora nella striscia? L'ONG già da mesi dicono che non è possibile vivere in queste condizioni, nella striscia di Gaza, eppure comunque la gente in qualche modo continua a sopravvivere, continua a trovare dei modi per arrivare alla fine della giornata. Di nuovo, l'ONG sono mesi che avvertono del rischio di una carestia nella striscia di Gaza, ci sono centinaia di camion, carichi di aiuti umanitari, di cibo, acqua, che sono fermi da quasi due mesi alla frontiera con l'Egitto, in attesa del permesso di entrare nella striscia di Gaza. Ma il valico di Rafa resta chiuso, quindi questi carichi si stanno deteriorando sotto il sole cocente. Ci sono altri due passaggi che Israele tiene aperti per arrivare alla striscia di Gaza, ma gli aiuti continuano ad entrare col contagocce. I dati delle Nazioni Unite dicono che finora a luglio sono entrati 18 camion, 18. A giugno sono stati 756, a maggio 840, quindi comunque c'è una tendenza a calare. Altri aiuti continuano a essere paracaudutati dal cielo, da alcune nazioni, anche se anche qui molto ONG dall'inizio hanno denunciato i limiti di queste consegne, sottolineando che solo l'apertura dei valichi da parte di Israele e la distribuzione degli aiuti via terra possono evitare la diffusione della fame e delle epidemie. Per non parlare poi del fallimento clamoroso del molo temporaneo che gli Stati Uniti avevano annunciato a marzo come soluzione al problema della consegna degli aiuti e che sarà smantellato definitivamente nei prossimi giorni dopo essere stato in funzione in tutto per 20 giorni. In tutto questo la rivista medica britannica The Lancet il 5 luglio ha pubblicato un articolo intitolato Contare i morti a Gaza, difficile ma essenziale, di cui parla anche Giovanni De Mauro nel suo editoriale del prossimo numero di Internazionale. L'articolo dice che il bilancio dei morti a Gaza oggi potrebbe superare le 180.000 vittime, in base a un calcolo legato alle stime quotidiane pubblicate dal Ministero della Sanità di Gaza. Gli ultimi di ieri erano di 38.295 morti e applicando a queste una stima prudente di 4 morti indirette per ogni morte diretta. Queste morti indirette sono quelle che avvengono a causa di malattie, mancanza di acqua, cibo, di luoghi sicuri eccetera. Quindi il numero delle vittime quadruplica praticamente e arriva a una cifra tra il 7 e il 9% della popolazione totale della striscia. Un'altra questione emersa negli ultimi tempi è quella dei prigionieri, cioè dei palestinesi arrestati nella striscia dopo il 7 ottobre e del loro trattamento durante la detenzione. Sì, da mesi in realtà sono cominciate a trapelare delle notizie agghiaccianti sui centri di detenzione per i palestinesi di Gaza gestiti da Israele. In particolare poi se ne è parlato dopo che il primo luglio Israele ha liberato decine di detenuti palestinesi che sono stati trasferiti in centri medici del territorio palestinese e tra le persone liberate c'era Muhammad Abu Salmiya che era il direttore dell'ospedale al-Shifa di Gaza, il più grande del territorio palestinese che è stato bombardato più volte intorno al quale sono state scoperte anche almeno tre fosse comuni. Abu Salmiya è stato arrestato alla fine di novembre perché Israele lo accusava di lavorare con Hamas. È stato arrestato mentre conduceva un convoglio di civili feriti fuori dal complesso sanitario che era stato assediato ed è stato rinchiuso quindi per sette mesi senza un'accusa formale che meno una lontana parvenza di processo e dopo la sua liberazione ha denunciato che nei centri di detenzione i prigionieri subiscono torture di ogni tipo e molti di loro sono morti o sono stati lasciati senza mangiare e senza cure. Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre Israele ha incarcerato omiyaga dei palestinesi, della striscia di Gaza e della Cisgiordania. I fonti arabi citano il Palestinian Prisoners Club, un'organizzazione che si occupa appunto di prigionieri che ha calcolato 9600 arresti dal 7 ottobre. Molte persone arrestate sono state rinchiuse in queste strutture di cui forse la più famigerata è Sdeteyman, una base militare nel deserto del Negev, dove dal 7 ottobre sono state detenute 4000 persone e che il primo avvocato autorizzato a visitarla a fine giugno ha definito più terrificante di Abu Ghraib e Guantanamo. Un articolo di 972 Magazine denuncia che dall'inizio della guerra sono morte al suo interno in circostanze sconosciute 35 persone e che molti lo chiamano il campo della morte. In questa situazione che ne è dei negoziati per arrivare a un'intesa per un cessato il fuoco a Gaza? Negli ultimi giorni sono stati rilanciati gli sforzi diplomatici per arrivare a un cessato il fuoco a Gaza e alla liberazione degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas. L'altro ieri la delegazione statunitense e quella israeliana si sono incontrate al Cairo, in Egitto. Ieri invece è stato il turno dei capi della CIA e dei servizi segreti israeliani a Doha, in Qatar. La proposta sul tavolo sarebbe un accordo in tre fasi presentato settimane fa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e sembrerebbe che ci siano più spiragli per un esito positivo dopo che Hamas ha rinunciato alla condizione di un cessato il fuoco permanente per negoziare la seconda fase dell'accordo. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si era detto favorevole a una sospensione temporanea dei combattimenti ma aveva ribadito la sua decisione a non fermare le osterità fino a quando Tel Aviv non avrà raggiunto tutti i suoi obiettivi cioè la distruzione di Hamas e la liberazione di tutti gli ostaggi. Quindi sì, con questo cambio di posizione di Hamas i negoziati potrebbero fare dei passi avanti. C'è un cauto ottimismo anche se ancora chiaramente c'è molto lavoro da fare a livello diplomatico. Ma ogni giorno che passa intanto la striscia di Gaza diventa una tomba per altre persone e se anche l'offensiva militare si fermasse domani resterebbe inabitabile per decenni. Grazie a Francesca Agnetti Grazie a voi Maisa Moroni, fotoeditor di Internazionale racconta la copertina del nuovo numero Il 7 luglio, nel secondo turno delle elezioni politiche gli elettori francesi hanno votato in maggioranza contro l'estrema destra premiando nelle urne l'alleanza di sinistra il Nouveau Front Populaire e la sua scelta della desistenza con le forze centriste. Nessuno schieramento ha però ottenuto la maggioranza assoluta per governare. Gli articoli, ripresi dalla stampa francese e che potete ascoltare anche nel podcast in copertina raccontano il sollievo nel paese ma anche i possibili scenari per formare un governo. Domenica sera a Parigi gli elettori di sinistra hanno aspettato risultati elettorali a Place de la Republique uno dei luoghi simbolo delle manifestazioni parigine. Il fotografo francese Denis Ayard ha seguito l'esplosione di gioia della piazza la foto di copertina è sua. Sullo sfondo il monumento alla Repubblica su cui sono arrampicati alcuni giovani mentre in cielo esplodono i fuochi d'artificio. In primo piano una coppia tra le bandiere festeggia con le braccia alzate. Buone notizie dalla Francia è la nuova copertina d'internazionale. 6, 5, 4, 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage. Pilotage calme, trajectoire nominale. Projectoire nominale, pilotage calme. Disissione della telemisera per l'attention di Saint Jean, propulsion nominale. Separazione dei U.S.R. Il 9 giugno l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha lanciato il razzo Ariane 6 dalla base di Curu, nella Guiana francese. Anche se è stato un successo solo parziale, la missione era molto attesa perché segna la ripresa dell'aviazione spaziale europea che per molti mesi è stata bloccata da ritardi e problemi tecnici. L'ESA sta cercando di rendere l'Europa indipendente dalle agenzie spaziali private come la SpaceX, di proprietà di Elon Musk, e il lancio dell'Arian 6 è un passo fondamentale in questa direzione. Ne parliamo con Emilio Cozzi, giornalista e divulgatore scientifico che si occupa di astronautica. Il 9 luglio, alle ore 21 italiane, i due booster a propellente solido P120C hanno incendiato l'aria dello spazio porto di Curung, in Guiana francese, e spinto per la prima volta della sua storia il nuovo lanciatore pesante Arian 6 dell'ESA verso lo spazio. La missione di debutto avrebbe dovuto consegnare 16 tra CubeSat esperimenti e due capsule spaziali rientranti alle loro orbite. La missione nelle prime fasi è andata perfettamente, come si dice in gergo, in maniera nominale. Purtroppo dopo due ore dal decollo un componente del secondo stadio, cosiddetto APU, ha avuto un'anomalia e non ha funzionato correttamente. Quindi il secondo stadio ha perso la sua traiettoria e purtroppo non è potuto rientrare in atmosfera come è previsto e quindi non ha né consegnato alle loro orbite e alle cose che doveva trasportare e purtroppo si è trasformato in quello che si chiama Space Debris, cioè un detrito spaziale. In sintesi possiamo dire che la missione è stata un parziale successo perché ha riportato per la prima volta dopo oltre un anno un veicolo spaziale progettato e costruito in Europa nello spazio, ma a noi la missione non è stata completata. Per cui appunto un buon segnale da una parte ma quella che si chiama una validazione, quindi un test definitivo, ancora in attesa. Per questo lancio c'era una grandissima attesa. Per chi era considerato così importante per il futuro delle attività spaziali in Europa? Il lancio era attesissimo addirittura da quattro anni perché all'origine Ariane 6 sarebbe dovuto partire nel 2020, poi una serie di ritardi ne hanno appunto prorogato la partenza fino al 9 luglio ed è importante perché ha restituito la capacità di accedere autonomamente all'Europa nello spazio. Il motivo è presto detto. Purtroppo il predecessore, l'Arian 5, è stato pensionato nel luglio del 2023 e complici l'invasione russa in Ucraina che ha interrotto la collaborazione fra l'Agenzia Spaziale Europea l'ESA e quella russa la Roscosmos purtroppo ha tolto la possibilità dell'Europa di usare i Soyuz russi. Purtroppo c'è anche un'altra notizia non positiva per l'Italia, l'altro lanciatore per carichi medio-leggeri quindi con un tonnellaggio inferiore rispetto a quelli che Ariane 6 può portare nello spazio il Vega-C dopo un debutto di successo nella sua prima missione commerciale nel dicembre del 2022 purtroppo ha avuto un failure cioè esploso dopo il decollo. Questo sostanzialmente ha tolto all'Europa la possibilità di lanciare con mezzi propri satelliti e missioni scientifiche nello spazio per cui il lancio del 9 luglio è stato fondamentale per restituire all'Europa la capacità di trasportare nello spazio asset in alcuni casi anche strategici come dovrebbe fare per avere la piena sovranità extraterrestre. Ecco parliamo di questa sovranità perché per l'Europa è così cruciale avere una presenza nello spazio autonoma? La presenza nello spazio europeo è fondamentale per questioni di sovranità perché noi nello spazio tendenzialmente portiamo satelliti asset tecnologici che non solo hanno un ritorno economico diretto e indiretto nella vita di tutti i giorni ma in alcuni casi sono deputati a garantirci dei servizi che possono essere anche strategici pensiamo all'osservazione della terra per cui al meteo per cui la capacità di prevedere o comunque di in qualche modo arginare anche emergenze climatiche o intervenire prontamente nei soccorsi non ultimo questioni afferenti alla difesa per cui anche alla preservazione dei confini nazionali all'osservazione dei movimenti su il territorio europeo sono assolutamente deputati a asset spaziali faccio un esempio su tutti la costellazione galileo che è l'omologo del gps europeo per cui quella che permette la navigazione il posizionamento la rilevazione del tempo attraverso lo spazio per portare due satelliti di nuova generazione galileo nello spazio ci siamo dovuti affidare lo scorso aprile a un lancio di spacex questo per una costellazione considerata strategica che quindi ha anche dei servizi che sono necessari per la difesa portati da un privato e che in realtà sono un servizio che la comunità europea deve garantire ai propri cittadini in qualche modo inficia la sovranità assolutamente strategica che una nazione e un continente devono vantare anche nello spazio restando su questo tema una decina di giorni fa il quotidiano francese Le Monde ha dato la notizia che EUMESAT l'organizzazione europea che si occupa proprio dei satelliti meteorologici avrebbe deciso che il lancio del suo prossimo satellite verrà fatto attraverso un razzo americano quanto è importante questa decisione? è una decisione in realtà non smentita e non confermata che però ha suscitato diverse polemiche per esempio quella di Philippe Artiste che è il direttore dell'agenzia spaziale francese Il lancio della satellite di EUMESAT era previsto all'origine con il terzo volo di Ariane 6 che sarebbe stato il primo con configurazione 64 cioè con 4 booster al posto di 2 che sostanzialmente permettono di portare carichi più pesanti in orbita ebbene EUMESAT ha fatto trapelare e Le Monde ne ha dato un'anticipazione mondiale ha fatto trapelare che preferirebbe invece di un lancio con Ariane 6 un lancio con il Falcon 9 per cui ancora una volta di SpaceX Battista ha subito lamentato questa cosa suonando letteralmente un allarme ha usato LinkedIn per farlo e chiedendo alla Commissione Europea un pronto intervento e un provvedimento che possa addirittura arrivare all'obbligo per le istituzioni europee di utilizzare lanciatori made in Europe per le proprie costellazioni e per le proprie missioni per ora la voce è rimasta certamente non inascoltata ma ancora devi attendere una reazione ufficiale e concreta ma è un campanello d'allarme piuttosto serio tenete presente che l'ESA nel frattempo oltre a dover validare ancora la totale efficacia dell'Ariane 6 e oltre a rimettere Vega C sulla rampa cosa che dovrebbe succedere entro la fine dell'anno sta diciamo così attuando una serie di strategie che in qualche modo vanno nella direzione dell'appello di Baptiste per esempio stimolando la produzione di mini lanciatori cioè lanciatori più leggeri che vengano non acquistati nel loro sviluppo iniziale ma supportati nel loro sviluppo successivo a piccole aziende o aziende private questo cambierebbe radicalmente l'approccio europeo allo spazio e comincerebbe a sembrare quello che la NASA sta attuando da diversi anni la NASA non produce più lanciatori propri ma supporta lo sviluppo di lanciatori che realizzano altre strutture come per esempio SpaceX come per esempio Blue Origin o ULA per poi comprarne il servizio di lancio sostanzialmente come noi facciamo in un viaggio sul taxi non acquistiamo l'automobile ma acquistiamo il passaggio a questo punto anche alla luce di come è andato questo lancio di Ariane 6 quali saranno le prossime missioni e anche le prossime sfide per l'Europa per quanto riguarda lo spazio subito dopo il lancio nella conferenza post volo Stefani Israel che è il CEO di Ariane Spas Ariane Spas è l'azienda che commercializza i servizi di lancio della linea Ariane ha garantito che sebbene la missione di debutto di Ariane 6 non sia stata completata questo potrebbe non incidere sul calendario del lanciatore per cui il prossimo lancio con Ariane 6 è già fissato entro la fine del 2024 il lancio successivo il terzo quello che avrebbe appunto dovuto portare Eumetsat nello spazio potrebbe subire delle variazioni se non altro per il carico pagante per il passeggero da portare nello spazio ciò non di meno occorre far notare che i backlog cioè l'elenco dei clienti che hanno già prenotato un lancio sia per Ariane 6 che per Vega C è decisamente lungo anzi è un record c'è mai una serie di clienti così lunga si era scapparrata o aveva prenotato un lancio su sistemi letteralmente non ancora messi nello spazio questo da una parte è un fatto positivo per l'Europa dall'altra occorrerà vedere quanto e se qualcuno non voglia seguire l'esempio di Eumetsat e magari cambiare idea all'ultimo momento il che implica una seconda questione decisiva che è quella che afferisce alla space economy quanto costa lanciare un chilogrammo nell'atmosfera utilizzando Ariane 6 in questo momento ci sono delle stime con la configurazione più leggera quindi Ariane 62 parliamo di un costo complessivo di circa 70 milioni di euro per cui siamo tra le 5.000 e le 8.500 euro al chilo con la configurazione più pesante complessivamente parliamo di lanci che costano circa 100 115 milioni di euro a noi SpaceX offre lo stesso servizio di lancio a circa 6.000 dollari al chilo e peraltro non dimentichiamoci che sta da tempo testando la nuova astronave Starship quando la Starship che è completamente riutilizzabile dovesse entrare nel regime i prezzi di SpaceX potrebbero addirittura essere radicalmente ridotti una nuova volta e questo davvero essere un problema a livello concorrenziale per tutta la linea di lanciatori europei grazie Emilio Cozzi un grazie a voi buon lavoro il podcast della settimana consigliato da Jonathan Zenti autore e produttore di podcast che scrive per la rubrica Suoni su Internazionale quando un cittadino minorenne viene dichiarato colpevole di un reato il giudice può disporre a seconda della gravità e dei pregressi dell'imputato o alcuni obblighi educativi o la permanenza in casa o la messa in prova in una comunità per minori e solo in ultima razio la custodia cautelare in un carcere minorile le comunità per minori in Italia sono 628 di cui solo 3 sono pubbliche e tutte le altre sono private convenzionate di diverse ispirazioni ospitano circa 940 autori di reato minorenni quasi il doppio di quanti sono i detenuti nei carceri minorili e come documentato ampiamente dall'associazione Antigone in un recente report operano quasi sempre in una condizione di insostenibilità economica che spesso genera più problemi di quanti riesca a risolverne il podcast Quei cattivi ragazzi si concentra su una di queste comunità la comunità Cairos fondata da Don Claudio Burgio alle porte di Milano il podcast in sé soffre di diversi aspetti critici è finanziato da una compagnia assicurativa privata che trae vantaggio economico dal sistema carcerario beatifica la comunità che racconta senza mai entrare giornalisticamente negli aspetti critici primo tra tutti che è la comunità fondata e presieduta dal cappellano del carcere Beccaria dove recentemente sono stati denunciati abusi e violenze da parte dell'amministrazione carceraria è un approccio paternalistico alla criminalità minorile che scarica tutta la responsabilità sulla devianza morale e la debolezza caratteriale dei minori autori di reato presentati di continuo come gli unici in grado di decidere il proprio destino come se non fossero cresciuti nelle periferie del capitalismo contemporaneo e non ne avessero sperimentato sulla propria pelle gli effetti collaterali ma una volta superate queste sovrastrutture autoriali si arriva alla parte importante per cui vale la pena ascoltarlo che sono le voci dei ragazzi intervistati voci che non trovano mai spazio nei media nemmeno quando denunciano gli abusi che subiscono nelle parole dei ragazzi e la messa in prova in comunità emergono le famiglie in cui sono nati e cresciuti i quartieri con le loro regole la necessità di affidarsi alla violenza per cambiare le cose le ambizioni e le aspirazioni a cui lo stato in cui stanno crescendo non è in grado di dare nessuna risposta le risposte in compenso le sanno dare loro con precisione e determinazione anche quando le domande non sono all'altezza dei loro vissuti quei cattivi ragazzi di Gabriella Simoni e Francesca Bruzzese per Cora Media disponibile su tutte le piattaforme dalla redazione di Internazionale per oggi è tutto scriveteci a podcast chiocciolainternazionale.it o mandate un messaggio vocale al numero che trovate nella descrizione del podcast e dell'episodio e per ricevere una notifica quando esce un nuovo episodio iscrivetevi al podcast l'appuntamento con il mondo è domattina alle 6.30 iscrivetevi al nostro canale grazie a tutti grazie a tutti